Benvenuti a Salerno. Salerno addobbata con le sue luci d'artista, dietro di noi proprio l'albero di Natale. Partirà oggi qui, proprio da Salerno, la nuova puntata di Tine, le storie di ieri di oggi del gruppo Cavastore e la Red TV. Ad accompagnarci un folto numero di ospiti che ci accompagneranno all'interno dei vicoli cercando di farci scoprire le bellezze nascoste di Salerno. Iniziamo questa nuova puntata. Grazie a tutti. Siamo con l'amico e dottore Fabio Paolucci. Fabio, grazie mille per essere il nostro cicerone oggi. Grazie a te, Aniello, per averci dato l'opportunità oggi di percorrere alcune tappe importanti della nostra città. Fabio, ci porterai un po' a conoscere le parti più nascoste di Salerno insieme a un gran numero di amici. Esatto. Noi diciamo che ripercorreremo le tappe della passeggiata culturale, che è una nostra azione che parte dal meetup di Salerno. Noi siamo una piccola rappresentanza, in questo caso, del gruppo Cultura e Turismo. Abbiamo qui con noi Danilo Ruffo, il mister Domenico Benivento, Mario Granozio e Nicola Giovannone. Ci attendono poi per le prossime tappe anche Natalia Granito e Serena D'Agostino. E percorreremo questo itinerario, insomma, passando per il Duomo di Salerno, per Largo Campo, la Chiesa dell'Annunziata, Santa Taro Fimena, quindi le Fornelle e concluderemo poi al Giardino della Minerva. Perfetto, quindi un percorso abbastanza intenso, quindi è meglio partire subito. Assolutamente. Andiamo. Andiamo. Il Duomo di Salerno, simbolo di Salerno. Natalia, perché non ci parli un po' di questa magnifica struttura? La Cattedrale di Salerno può essere considerata una delle più maestose, sicuramente del sud d'Italia, ma possiamo dire anche dell'Italia intera. I lavori del Duomo di Salerno iniziarono nell'anno 1080, quando nella città arrivarono le spoglie di San Matteo. Vennero conclusi nel 1084, anno in cui la cattedrale fu inaugurata da Gregorio VII. Il Duomo fu fatto costruire da Roberto il Guiscardo, che conquistò la città dopo averla liberata dai Longobardi. Nell'ingresso presenta una scalinata a marmoria a doppia rampa, che risale al 700. Questa scalinata sostituì la precedente di epoca medievale, che aveva una pianta circolare. All'ingresso troviamo poi due statue, raffiguranti due leoni, un leone e una leonessa. Sono simbolo della forza, ma anche della carità della Chiesa Cattolica. All'ingresso troviamo una porta in bronzo, che è stata realizzata a Costantinopoli. Entrando poi ci troviamo di fronte a questo ampio atrio, un porticato a 28 colonne di stili diversi. All'interno del porticato poi notiamo dei sarcofagi, all'interno dei quali sono custodite le spoglie dei nobili salernitani e degli uomini di Chiesa. Al centro dell'ampio atrio possiamo notare una vasca in granito, che originariamente veniva utilizzata come fonte battesimale. A sud abbiamo il campanile, che appunto presenta tre livelli, e questi tre livelli fanno riferimento alla concezione che si ha nella Bibbia dell'universo. Alla sommità si trova poi una cupola sferica, che è simbolo della potenza divina. Ma adesso spostiamoci nell'interno del Duomo. Quindi andiamo a vedere un po' i suoi tesori. Esatto. Andiamo. All'interno, come possiamo notare, presenta tre navate separate da questi colonnati e tre rispettivi absidi. L'interno ha uno stile barocco, però un barocco non chiassoso, presenta delle linee sinuose e tenue. Infatti, come possiamo notare, siamo accolti da questo candore. Il Duomo presenta anche due pulpiti, il minore con quattro colonne e il maggiore che presenta dodici colonne, come i dodici apostoli. E questi pulpiti furono fatti costruire da Romualdo II Guarna. Importante da dire che il Duomo conserva anche le spoglie di Gregorio VII sull'abside destro. Gregorio VII fu portato a Salerno da Roberto il Guiscardo. Inaugurò il Duomo di Salerno nel 1084 e morì nel 1085 e le sue spoglie si trovano ancora oggi a Salerno. E questo è un caso molto particolare perché Salerno è una delle poche città in Italia a custodire le spoglie di un papa così importante. Beh, allora, visto che il Duomo è così vasto ci sarebbe tantissimo da vedere, però direi di accorciare i tempi e ci indirizziamo alla nostra nuova tappa. Andiamo. Lungo il percorso ci imbattiamo in questa meravigliosa fontana, siamo a Largo Campo. Appunto, altresi detta anche piazza del sedile del campo. Il sedile del campo era uno dei tre antichi parlamenti della città di Salerno. erano appunto tre, porta rotese, porta catena e sedile del campo. Si chiama sedile perché? Perché i nobili, si riunivano i nobili e si sedevano su un sedile. Il capo, diciamo, di questo gruppo di nobili, di questo Parlamento, sedeva invece sul seggio. E quindi appunto si chiama sedile del campo. Poi qui sorge invece una delle fontane più belle di Salerno che è riconducibile al Van Vitelli. Subì parecchi rimaneggiamenti nel corso del tempo proprio perché subì alcuni danni. Fu in parte distrutta nel terremoto dell'80. I due delfini, per esempio, sono delle copie. Però noi possiamo ancora vedere originali, mai toccati, i due mascheroni a sinistra e a destra e la vasca. Perfetto, allora direi di continuare questo nostro percorso. Andiamo avanti, prossima tappa, l'Annunziata. Andiamo avanti, prossima tappa, l'Annunziata. Siamo giunti alla chiesa dell'Annunziata. Sì, questo edificio fu costruito in realtà nel 1627 e andò a sostituire la vecchia chiesa che era stata invece distrutta nell'alluvione del 1626. Quello che vediamo noi oggi nella chiesa dell'Annunziata risale in realtà a un restauro. La facciata e il campanile della Santissima Annunziata furono progettate dal noto architetto Ferdinando San Felice che lo fece appunto nel 1700. Questa chiesa poi fu anche coinvolta nell'alluvione del 54. Sì, questa è stata proprio una delle zone più colpite dell'alluvione del 54. Sì, assolutamente. Aggiungiamo anche che il campanile si trova di fianco a via di Porta Catena, a uno dei tre sedili della città dove si riunivano gli antichi parlamenti e qui diciamo questa è un'altra zona dove appunto c'era un altro parlamento della città. Perfetto. Adesso ci indirizziamo a la zona Fornelle? Fornelle. Andiamo. Siamo davanti alla chiesa di Santa Trofimena nel rione Fornelle di Salerno. È uno dei rioni più antichi. La chiesa di Santa Trofimena è dedicata a questa santa che era una santa originaria, una martire originaria della Sicilia. Si dice che il padre l'uccise perché lei voleva diventare cristiana e che il suo corpo arrivò miracolosamente a Maiori. Dopodiché ci fu una specie, una grande lotta per avere i resti di questa santa. Un principe Longobardo li aveva a Benevento e li voleva restituire, dopo le richieste delle persone di Maiori, restituì una parte di queste reliquie. E si dice che questa chiesa fu costruita proprio per ospitare questa delegazione che portava le reliquie della Santa Trofimena. Il rione Fornelle è un rione che è stato molto colpito dall'alluvione del 1954. Un alluvione che fece un 500 tramorti e dispersi purtroppo e distrusse completamente il tessuto urbano di questa zona. Infatti, se vediamo intorno a noi, abbiamo defabbricati tutti abbastanza recenti. E una parte della popolazione del rione fu trasferita nella zona est della città. E ora continuiamo e andremo verso il giardino della Minerva. E siamo giunti all'ultima tappa. della nostra passeggiata culturale. Siamo al giardino della Minerva con il direttore Luciano Mauro. Direttore, grazie per averci accolto a questo simbolo. Dovere, dovere. Innanzitutto siamo un orto botanico. E quindi come orto botanico noi abbiamo questo collegamento con l'antica scuola medica salernitana e coltiviamo le piante che appartenevano alla conoscenza terapeutica salernitana. Quindi questo è il nostro obiettivo. Non è un giardino casuale questo qui. È il giardino di Matteo Silvatico. Questo grande terapeuta salernitano che visse a cavallo tra il XII e XIII secolo. E lui era un grande terapeuta e in questo giardino, proprio esattamente in questo luogo, lui faceva un'operazione fondamentale. Faceva il cosiddetto ostensio semplice, cioè mostrava le piante. A chi? Agli studenti della scuola medica salernitana. E diceva agli studenti, guarda questa pianta che è fatta in questa maniera particolare, che ha questo odore, questo sapore. Si chiama in latino così, in greco così, in arabo così. E serve per questa determinata patologia. Allora, quest'operazione, cioè del mostrare la pianta, trasforma di fatto il giardino della Minerva in primo esempio di orto botanico nel mondo. Per noi è importantissimo sostenere questo pensiero e questa tradizione. Ovviamente lo facciamo, come voi avete visto, cercando di dare conto anche del fatto che è un bel giardino. Cioè, voglio dire, non è soltanto un orto botanico punto, è un giardino che ha la fortuna di essere in una posizione straordinaria, con questo terrazzamento, esatto, un panorama mozzafiato, questi terrazzamenti che si appoggiano sulle mura medievali della città. E quindi tutta questa cosa, è come se fosse un cuacervo di interesse e bellezza. E quindi questa cosa qua, ovviamente, il nostro compito e il nostro onore è quello di sostenerlo e di mantenerlo al meglio. Perfetto. Poi un giardino che è passato con vari proprietari, ovviamente, che si possono rintracciare nella sua storia, però è un giardino che lascia ancora qualche bello spunto, ad esempio l'affresco che è stato restaurato da poco. E questo rientra proprio in questo lavoro che noi stiamo facendo. Cioè, quando tu lavori su un giardino che ha questa storia così lunga, cioè noi parliamo di 700 anni di storia di questo giardino, Quindi allora è ovvio che la stratificazione della storia in questo luogo è veramente importante. Allora, è stato giardino di Matteo Silvatico nel Medioevo, ma è stato anche altre cose. E quindi nel 700, ad esempio, viveva in questo luogo non più un medico botanico, ma vivevano delle famiglie nobili salernitane. E quindi in questo luogo, questo luogo lo hanno trasformato. E quindi quel trompe l'ail che lei segnalava, deriva proprio dal fatto che questo era un giardino di piacere a quell'epoca, nel 700. E quindi fu fatto, sul finale di uno dei vialetti, fu fatta questa sorta di prospettiva falsa, che era appunto il trompe l'ail, e quindi fu realizzata questa cosa. E ovviamente per noi è molto importante tutelare le stratificazioni di questo giardino, e quindi dare modo alle persone di vedere non solo il giardino di Matteo Silvatico, ma anche quello che diventò poi dopo il giardino esatto. Oggigiorno? Come è curato? Quali sono le iniziative? Oggigiorno, innanzitutto, noi lo curiamo come orto botanico, ripeto il concetto. Quindi noi abbiamo qui vicino un vivaio dove produciamo tutte le piante che sono presenti nel giardino. Il 50% delle piante, questa è per me una segnalazione che faccio, il 50% delle piante che noi oggi coltiviamo nel giardino, per ovvi motivi, perché sono piante terapeutiche, sono piante annuali. Quindi noi dobbiamo raccogliere il seme, conservarlo e riprodurlo l'anno successivo. Stiamo strutturati ovviamente con un gruppo di ragazzi che lavorano anche all'accoglienza, quindi il racconto del giardino viene fatto anche attraverso delle aule didattiche. Direttore, noi la ringraziamo per il suo magnifico intervento, e la ringraziamo soprattutto per riuscire a far tenere ancora viva questa bellezza per il proprio disegno. No, ma dovrà essere sempre così. Io come dire, lo do come input, nessuno deve ritornare indietro da questa cosa. La città ha conquistato questo spazio, uno spazio che è stato conquistato relativamente da poco tempo e ora questo è un punto di partenza. Nulla deve accadere affinché questo luogo ritorni indietro in una indifferenza. Si deve andare solo avanti. Fabio, il direttore ci ha spiegato un po' tutta la parte del giardino, ma come si inserisce all'interno di queste passeggiate? Una di quelle l'abbiamo fatta oggi. Sì, diciamo che questa è una tappa importantissima per la città di Salerno. Noi l'abbiamo introdotta nella seconda passeggiata culturale che abbiamo fatto il mese scorso. Coloro che hanno partecipato, oltre un centinaio di persone, hanno ritenuto importantissimo questo sito. E la cosa che più ci ha fatto riflettere è il fatto che gli stessi salernitani non conoscano le bellezze che noi abbiamo a disposizione. Quindi è necessario valorizzarle, renderle ancora più fruibili, ma soprattutto a noi stessi, prima che i turisti che arrivano qui a Salerno. Fabio, chiudiamo questa puntata con la parte di intervento tuo, in realtà che ci hai un po' guidato su tutto il territorio, chiedendoti, te lo chiedo io personalmente, di integrare qualche altro punto, perché come ci dicevi prima, passando all'interno dei vicoli c'è la Casa Romana, ci sono dei punti un po' nascosti. Quindi magari organizzare un altro percorso che tenda poi a mettere insieme questi punti importanti. Assolutamente sì, direi che è necessario. Io penso che bisognerebbe organizzare una puntata per ogni sito culturale che abbiamo qui a Salerno, perché abbiamo un patrimonio veramente di inestimabile valore. Magari in posse. Assolutamente sì. Va bene, grazie anche a te. Grazie a te. Chiudiamo questa puntata particolare sulla città di Salerno, su alcuni punti della città di Salerno, con qualche vera e propria chicca riguardante il Giardino della Minerva. Il Giardino della Minerva non prende il nome dalla Dea, la Dea Minerva, bensì dalla famiglia, che già nel 1549 fittava l'intero giardino, lo fittava la famiglia ammirabile per atto del notario della Rocca. Beh, a questo punto c'è proprio un vero e proprio passaggio, poco alla volta il giardino passa di mano in mano. Infatti nel 1611 troviamo ancora i signori mirabili che sono semplicemente persone che fittano, che hanno in affitto il giardino e vendono una parte del ricavato, dei prodotti che c'era all'interno del giardino, come le lemoncele e le cetrangole. E più tardi, nel 1666, il giardino verrà acquistato dai signori del Core. I signori del Core daranno uno spunto storico importante perché lasceranno una vera e propria testimonianza del giardino stesso e l'archivio che conserva questa particolare testimonianza è l'archivio diocesano. Vi salutiamo con questo bellissimo panorama sul Salerno, vi ringraziamo sempre per seguirci e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!